Lei ce l'ha una preferenza? Ma guardi, noi abbiamo varie potenzialità, la Meloni che mi pare, non l'ho ancora ufficializzato ma diciamo, non mi pare per varie ragioni ben note, intenzionata a scendere in campo, Berlusconi ha proposto l'ipotesi Bertolaso e c'è Marchini, abbiamo tre ipotesi, tutte tre competitive, io mi sto adoperando perché ce ne sia una sola in campo, perché se ce ne fossero due su tre in campo si pesterebbero i piedi e quindi perderemo un'occasione vincente, bisogna che ce ne sia una sola e quindi o per decisioni autonome di questi candidati o per altri vicendi sto lavorando per questo e se ce ne sarà uno solo di questi tre con il sostegno degli altri il centro-destra ce la può fare, per realizzare questa convergenza bisogna fare forse più contatti personali e meno proclami.